Questa intervista vi è offerta da Campani Group e sei sulla buona strada Sarebbe stato carino fosse andato in onda questo fuori onda che nel frattempo ha accompagnato speciale di Alex Priti Avremo scoperto un'altra parte di Alex Ciao buongiorno, benvenuto a tutti Benvenuto davvero Alex Priti con noi Dunque è uscito Il nome dell'amore volume 2 Sette canzoni insieme alle otto di volume 1 fanno un unico progetto Diciamo così e subito chiediamo perché è una scelta così insolita Dividere in due o un disco Perché volevo dividere, mi ero reso conto che c'erano tante canzoni che parlavano d'amore ma con stati d'animo diversi E quindi ho preferito dividerle in due e fare un disco in un modo e un disco in un altro Il primo, il volume 1, era un disco più, comunque più serio Anche elettronico forse Elettronico, sì, con una sonorità più rarefatte, più adatte a discorsi più seri Poi c'era una prima canzone che avevo fatto che era Perché, che parlava insomma della violenza sulle donne Quindi tutto quell'album ha preso un po' un clima, un po' più di denuncia, un po' più serio e serioso Esatto Mentre invece la seconda parte è più di pancia, è più solare e la parte anche più divertente dell'amore Perché poi l'amore insomma non è sempre stare lì a grandi frasi che sembrano tra Shakespeare e i baci perugino poi alla fine Invece è bello anche saperci andare d'accordo con l'amore Serve allegria, serve allegria l'amore perché funzioni Ma sì, ma poi uno con la ragazza sta sempre lì a fare le poesie drammatiche Anzi, io con la mia ragazza scherzare, facciamo gli scherzi, ridiamo, ci divertiamo un sacco tutto il giorno Serve ironia anche Certo, ironia, divertimento, insomma, se no sai due palle Ecco, esatto Un disco abbastanza rock anche va detto, con un ritmo abbastanza sostenuto Volevi proprio trasferire questa allegria a chi lo ascolta Sì, questa decisione, questa determinazione di imporre certi anche concetti, certi concerti, certe sonorità Quindi la chitarra elettrica mi aiuta tanto Quindi c'è sempre tanta elettronica Però con la batteria vera, la chitarra, un po' di strumenti Ho fatto un bel mix tra virtuale, tra synth e strumenti suonati Poi le quali io insomma non posso mai abbandonare Ecco, in quanto tempo hai preparato questo lavoro e dove anche hai scritto le canzoni Perché io ti immagino sempre nella casa vicino al mare In un'atmosfera molto piacevole Sì, quello sì, quello dove ho lo studio, dove mi piace lavorare Il profumo di cibo che arriva dalla cucina Sì, molto, molto La situazione è quella Senti che viaggia Sì, sì, sì Quando sono fermo, io mi prendo dei momenti che sono fermo E in questo disco mi sono preso più o meno sei mesi per prepararlo Avevo già scritto le canzoni, poi mi sono chiuso in studio Ho fatto tutte le preproduzioni, tante registrazioni E poi l'ho fatta anche un po' in giro, insomma, ormai con i file Porti un hard disk e lavori dappertutto Quindi ho lavorato in 3-4 studi tra Roma, Milano Ho masterizzato fuori negli Stati Uniti e poi ritornato qui Insomma, adesso siamo pronti e stiamo promuovendo Senti, tu sei vicino ai 20 anni, no? Di carriera Sì Manca pochino, direi che l'anno prossimo Manca un anno Dovrebbe essere la scadenza giusta Sì, l'estate del 98 è l'estate dove ho iniziato a fare il cantante 98 miglior artista italiano emergente Nel 99 tiri fuori quella canzone che era stata oggi, credo, la tua più bella Possiamo dirlo? So che sembra azzardato, no? Sono una volta tutta la vita, tra l'altro ricordo benissimo la prima volta che finì Perché quell'anno, io prima lavoravo all'estero Ero di base in Olanda e lavoravo, facevo il chitarrista, blues, jazz, insomma un po' nel nord Europa E quell'anno ho deciso di rimanere in Italia e però ovviamente dovevo lavorare Quindi sono andato in tour con Irene Grandi, ho fatto il chitarrista di Irene Grandi E poi nel frattempo è esplosa la canzone, quindi è andata in classifica eccetera eccetera A fine estate finisco il tour e la prima cosa che ho fatto è stata con voi La festa di Radio Bruno da queste parti, non ricordo esattamente dove era Mi ricordo che lì con Obi c'era Lucio Dalla Sì Che siamo rimasti, c'era Max Pezzali con cui già ero amico E poi quindi c'è stata una deliziosa cena anche È vero, è vero Dopo lo spettacolo molto divertente E poi da lì mi sono trasferito a Milano e ho iniziato a fare il cantante Ecco vedi e questo mi piace puntualizzarlo perché a Radio Bruno è stata Invitiamo anche sempre dei talenti emergenti E qualche volta ci vediamo lungo Sì sì Ecco il caso Tra l'altro quell'anno stesso ricordo che tu venisti in un locale Qui proprio in zona in mezzo alla pista da ballo Cantasti questa canzone con la chitarrina Insomma iniziavi a promuovere Sì dove era? Anche in questo modo Qui a Carti? Sì proprio qui Ah ok Avevo il mosso, avevo il mosso grazie Perché da lì poi è partita proprio una raffica di serate, di apparizioni, di spettacoli Però la prima non me la dimentico Abbiamo parlato di Solo una volta tutta la vita Ma poi oggi sono io che è una canzone meravigliosa Hai vinto Sanremo Giovani Poi Nina gli ha dato un'altra bella spinta Gli ha dato una spinta, sì L'ha fatta arrivare, ha allargato la forchetta L'ha fatta arrivare anche magari a un tipo di pubblico che non mi segue Abitualmente insomma anche per cultura, per età Invece così mi ha allargato la forchetta Ah la scritta Alex Britti sta canzone Pensa un po', ma bravo Bravo, bravo, ha del talento Senti a proposito di talento Io ho guardato un po' l'edizione VIP di Masterchef Ti ho visto ai fornelli Ma bravo Oh yes, grazie Ma la passione per la cucina ce l'ho sempre avuta Per mangiare soprattutto, tu lo sai da anni E quindi poi insomma mi piace anche cucinare Vengo da una famiglia di mangioni Sia mio papà cucinava benissimo Mia mamma cucina benissimo E non è cucinare benissimo casualmente Ma proprio c'è la ricerca del cibo Io mi ricordo da quando ero un ragazzino Che i miei aspettavano magari che gli arrivava quel formaggio O quell'affettato La qualità anche Mio papà macellaio selezionava le carni per prepararle Cioè quindi tu eri coinvolto Ogni volta che loro si mettevano i fornelli Tu eri coinvolto O di tuo andavi e vedevi come si parla Ero... no, loro non mi chiamavano Ero io che ero incuriosito Arrivavano gli odori della cucina Andavo lì, chiedevo come si fa questo, come si fa quello Quindi quando avevo già 17-18 anni Ero già in grado di cucinare Insomma perlomeno la cucina romana Le cose che cucinavano loro Pensa un po' Poi sono andato a vivere da solo molto presto A vent'anni io insomma sono andato via di casa E quindi non avevo così tanti soldi Anzi per andare al ristorante A mangiare bene E quindi ho imparato a cucinare E non è che mi accontentavo E mi facessi una fettina Una pasta al volo Caro Alex, un uomo Che sa fare da mangiare A molte porte aperte Nei confronti delle donne E poi ci mette tutto il resto Abbiamo fatto Sì, li deve mandare via Spinta Senti, senti cosa facciamo Facciamo che adesso basta Facciamo E basta E basta Facciamo E basta Vabbè, vado via Facciamo E basta E basta è la canzone Rimango però è basta lo stesso Vabbè, vediamo cosa vuol dire Allora, questa è un'altra canzone E basta E basta Bella, bella Mi piace Bella carica Grazie Abbiamo detto l'amore celebrato Questa volta in maniera allegra In maniera solare In maniera proprio In maniera divertente In maniera di come sono le storie di soli Insomma, perlomeno la mia Perché Alex sta bene Divertirmi Sta bene, allegro Sta bene Non andiamo troppo a fondo Che poi ci sono fatti bene Il cuore va bene Dio che ama l'altro giorno Ti saluto il mio medico Che simpatica macchietta Sapevo che glissava Lo sapevo Avevi un rapporto difficile Con i social network Sono migliorati? Stanno migliorando Ho degli amici Allora, finora Io non avevo rapporti Con i social network Esatto Perché insomma Però Prima c'era Quelli che lavoravano con me Che mi dicevano No, devi pubblicare le cose Devi pubblicare le cose Sì Invece adesso Ho un po' di amici Che mi sfottono Perché Sono l'unico Che non comunica Che non mette le cose Adesso mi sono scatenato E sto mettendo un sacco di cose Un sacco di foto Insomma adesso Spesso su Instagram Ce l'ho da due mesi Dai Un po' alla volta Quindi Instagram Non Facebook Non Twitter No, no Twitter ce l'ho Twitter ce l'ho Però non lo so È meno Meno dinamico È vero È meno interattivo Anche a me piace Twitter comunichi Mentre invece Instagram È un po' più scherzoso Poi è più da fotografia A me piace molto Fare fotografie E quindi pubblico Sia le cose Le foto con gli amici Gli scherzi Scherzo molto Sono molte Una prerogativa di Instagram È pubblicare le foto Dei piatti che si mangiano È pieno È infatti Ne pubblico Ecco almeno Nei tuoi caso Vale la pena vedere Di che cosa si tratta Posso chiederti Qual è il tuo Il piatto che ti riesce meglio La cosa che ti riesce meglio In cucina Guarda Per fortuna Non voglio fare lo sbruffone Però So cucinare Ce ne sono molte di cose E quando Faccio una cena Quando invito Degli amici a cena Se vuoi stupire qualcuno Gli chiedo Cioè di solito Le mie cene Standard Con gli amici Sono che loro Mi dicono Tipo due o tre giorni prima Il menù Si consultano Fanno il menù Mi danno il menù E poi io Io lo preparo Sì E di solito Mi piace Un po' più Cucinare il pesce Sono più sintonizzato Sulla zona pesce Però insomma Anche la carne Ci piace Tanto mi risulta essere Un po' più complicato Il pesce Che la carne Beh È più facile da rovinare È più facile da Da rendere Magari stoppaccioso Mi piace questa risposta Alternativa Non è più difficile È più facile da rovinare Se vogliamo Sì Appunto Quindi poi diventa difficile Poi magari lo mangi lo stesso Per carità Però Insomma Mangiare il pesce Con la fragranza giusta La durezza perfetta Non è facile Bisogna essere bravi A cuocere E appunto Essere bravi cuochi Come te Il tour A questo punto Perché ci sono Delle date Sono state annunciate Molto avanti Quindi significa Che tu ti prendi Un bel pezzo D'estate Per i fatti tuoi Sì Quest'anno sì Ho deciso così Parto dopo la metà di luglio E poi girerò Un po' Un po' Da per tutto Ci sono un sacco Di date Che stanno uscendo Ancora non sono Comunicate Aspettiamo un po' Aspettiamo ancora un po' Non c'è fretta No ma tiratela pure Se vuoi tornare Quando vieni qui vicino Va bene Quando sto in zona Tu torni Magari ci andiamo a mangiare il pesce Ok Ok Molto volentieri Alex Un uomo da sposare Ce li ha tutte Questo uomo qua E torna quando vuoi Grazie mille Noi ci salutiamo Con una su un milione Bene Grazie di cuore Ciao 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 Questa intervista È stata offerta da Campani Group E sei sulla buona strada